Cari ragazzi, cari bambini, sono felice di potervi raggiungere attraverso questo schermo. Ci possiamo in qualche modo vedere, ci possiamo sentire. Posso parlarvi e in questi giorni vorrei parlarvi di Vangelo. È quello per cui il Signore mi ha mandato e mi ha mandato anche a voi. Cercherò brevissimamente di commentare, di consegnarvi il Vangelo delle prossime domeniche di Quaresima che ci stanno preparando alla celebrazione della Pasqua che ci auguriamo con tutto il cuore di poter vivere insieme. A presto!